Certe notti c'è un cielo bellissimo, significa che dedichiamo la copertina di oggi e la doppia centrale alla Notte Lilla all'isola, tutti gli appuntamenti che sono appunto segnalati oggi su Me Tomorrow, tanti locali dove trovare anche il nostro giornale sia oggi che domani, e poi lo spirito della Notte Lilla, cultura e divertimento, vi spieghiamo appunto la partnership nata quest'anno in occasione pronto dell'edizione che coinvolgerà tanti negozi tra Via Tandervelle e Via Borsieri. Come ogni mercoledì il Fanta Municipio che di fatto incorona matematicamente il Municipio 9 per questa edizione, incolmabile ormai il distacco dal Municipio 3, un bellotto tra l'altro oggi al Municipio 9 con l'iniziativa del We Playground Together con Danilo Gallinari. A lezione di ambientalismo dalla Casa della Carità con la settimana ecovirtuosa e domani anche una notte lunare al Museo della Scienza che celebrerà l'allunaggio con giochi, talk, laboratori, tour speciali e un DJ set aperto fino a mezzanotte in Via San Vittore 21.